Il sindaco Papasso, un momento di gioia all'arrivo del Papa, un'occasione storica, il Papa arriva una sola volta a Cassano. Un momento di commozione profonda, di gioia estrema che segnerà la nostra esistenza per la prima volta nella storia Papa Francesco, un Papa rivisita Cassano. Anche se devo dire con felicità che Cassano ha dato Natale a un Papa, a Santo Giusebio da Cassano. Cassano da oggi ripartirà, ripartirà con questo abbraccio affettuoso, ripartirà con questo messaggio fortissimo, ripartirà all'insegna della ricerca del bene comune, ripartirà facendo una scelta che è stata fatta già da parecchio. Aiutare i deboli, stare con i deboli, essere deboli con i deboli e forte con i forti. Ma soprattutto credo che la presenza di Papa Francesco rappresenterà per quanti sono stati distratti nel corso degli anni nei confronti della piana di questa comunità, nei confronti del compensatorio del Pollino, di essere più attenti e di programmare lo sviluppo della piana di Sibari in maniera tale da poter cangellare il punto nero che rappresenta l'illegalità. Grande risposta dal suo paese, Cassano ha risposto con un grande entusiasmo. Cassano è in vesta, gioiosa, ordinata, che è ospitale, ha accolto Papa Francesco a braccia aperte, con grande commozione, ma ha accolto tanti fedeli che sono venuti anche da fuori con l'accoglienza e la solidarietà che non deve mai mancare.